Un bel progetto, una vittoria di sistema oggi qui insieme all'università che è stata promotrice ma con cui la provincia ha portato un contributo di tutto il sistema della ricerca, delle fondazioni, dei centri di ricerca e del sistema di preparazione. A questo bando siamo sicuramente a celebrare un momento molto positivo per la ricerca e innovazione in Trentino, un progetto datamine che vede l'utilizzo di un'area del nostro Trentino molto particolare, probabilmente unica e che potrà diventare luogo dove svolgere nuove ricerche, prototipare e studiare le tecnologie del futuro qui in Trentino creando anche un centro di competenza forte con l'università e i propri studenti.